Con grande emozione che stasera sono qui a casa di Angela Procaccini, la mamma di Simonetta Lamberti, una delle prime vittime bambine di Camorra. Dico grande emozione perché parlare di una bambina vittima innocente è sempre doloroso, c'è un rapporto di amicizia con Angela di stima, quindi è doppiamente doloroso e c'è un grande affetto per gli altri tuoi figli, in particolare per Serena, ma non di meno per Francesco e Stefano. Quindi io ringrazio tantissimo Angela che ci ha aperto e ci ha accolto a casa sua, a me con Rotti d'Italia per poter raccontare Simonetta Lamberti. Simonetta è un fiore reciso alla tenera età di 11 anni, la tua figlia, quella che si è definita una nuvola. Ciao sono Simonetta e sono una nuvola che purtroppo in un triste giorno è stata vittima di un proiettile. Purtroppo vittime di Camorra, ancora prima di raccontare quella che era la persona che non c'è più, dobbiamo necessariamente raccontare quello che è accaduto quel giorno. Quindi tu come madre, mi dispiace ma dovrai rinnovare, anche se non hai mai terminato da quel maledetto giorno, ma oggi più che mai dovrai fare uno sforzo con me e ricordare quella giornata Angela. Allora, dunque, Anna tu sai che io è da poco che ho aperto il mio pensiero, il mio cuore per parlare di questa tragedia che mi porto dentro, che fa parte proprio di me. Ho deciso di farlo perché penso che forse il parlare con gli altri e agli altri potrebbe tornare utile. Difatti ho accettato soprattutto di parlare anche ai giovani, ai ragazzi nelle scuole, proprio perché sono convinta che se si riesce a arrivare al cuore dei ragazzi destando le emozioni, solo allora si riesce a ottenere qualcosa, altrimenti i nostri giovani sono, come devo dire, fagocitati da queste screscenze tecnologiche, quindi molto spesso non si fanno coinvolgere da altre cose. Allora, premesso questo, ecco io, tu mi chiedi di parlare di quella giornata. Il maledetto 29 maggio dell'82, che poi è stato solamente l'inizio di una tragedia perché ha colpito Simonetta, ha colpito la famiglia, ma da lì come rivoli proprio incandescenti di lava, incandescente, sono venute fuori altre tragedie che poi hanno completamente distrutto la famiglia, la casa, l'habitat nel quale noi eravamo, nel contesto di amicizie, di familiarità che avevamo a Cava dei Tirreni, dove io mi ero inserita, pur essendo io napoletana e molto legata a Napoli. Comunque quel 29 maggio, mi dici tu, io quel 29 maggio ero lì con Simonetta che col suo banchetto, sai quei banchetti di legno che si chiudono e si aprono, aveva aperto il suo banchetto, io ero in cucina a lavare i piatti dopo pranzo e lei si era messa col banchetto vicino a me per fare i compiti. Mi chiedeva perché la nostra convivenza era proprio stritta stritta, soprattutto fra me e lei. E a un certo punto il papà che si era svegliato dal suo riposo pomeridiano, era una giornata splendida, un sole brillante, forse la prima giornata d'estate e esce appunto dalla camera da letto e chiama il mio primo figlio Francesco che era nella sua camera a giocare con le macchinine, sai un bambino di 12 anni e dice vieni, vieni andiamo al mare, andiamo al mare, ti porto a Pietri, Francesco vedi il destino come strano, è proprio veramente incredibile, Francesco disse no papà perché era di solito il figlio maschio che usciva col padre, il mio ex marito era un po' come devo dire, sai quelle famiglie patriarcali per cui il maschio era particolare. Diciamo che il tuo marito era un magistrato ed era il popolatore di capo di sala consiglina quindi comunque aveva un incarico di quelli dove ogni giorno si ha a che fare con delinquenti e con malaffari e soprattutto con la giustizia, quindi aveva un ruolo, del resto anche tu vieni in una famiglia dove si è sempre lavorato con un ruolo di prestigio. Sempre mio padre anche era un magistrato, di fatto il mio ex marito era stato uditore di papà, quindi così nacque la cosa, io avevo 12 anni meno di lui, quindi ero proprio una bambina quando ci siamo conosciuti perché poi allora le ragazze non avevano queste aperture che hanno oggi, quindi una ragazza di 17 anni era proprio una bambina. Comunque, dopo aver cercato di ottenere la compagnia del figlio maschio che si oppose ripetutamente, allora si rivolse a Simonetta e mi ricordo Anna, ma me lo ricordo proprio come se fosse ieri che lei mi ha guardato, mamma non ci voglio andare, non ci voleva andare. E il papà insisteva, si era anche un po' innervosito, forza andiamo, andiamo al mare e io le dissi Simonetta, non lo farei arrabbiare papà, vai, vuole venire, vuole andare con te. Sì, anche perché il padre era sempre impegnato, c'era poco quei figli, quella rara volta che appunto vuole uscire con te, facciamo, vai ti prego perché sennò si dispiace. E lei mi disse sì perché mi diceva sempre sì, sempre. Vanno via, vanno via e io continuo a lavorare in cuscina. Mi devi credere, non è passata nemmeno un'ora, un'ora e mezza, proprio una frazione di tempo pensando che in quell'intervallo di tempo si era consumata la tragedia. Già, perché all'oscuro di tutto mi bussano, mi scitofonano ed era questa mia cara amica Eva Sergio, collega di scuola, insegnava italiano e storia come me nell'istituto per geometri e mi chiama, dice Angela, a scitofono, Angela senti ma Francesco? Dico no, Francesco sta qui, perché? Che cosa c'è? Ah, meno male, meno male, perché hanno detto che Alfonso ha avuto un attentato e c'era Francesco perché tutti sapevano che di solito era il maschio che usciva con il papà. Ma che stai dicendo? C'era Simonetta e mi prende subito una stretta. C'era Simonetta, insomma per fartela breve tolgo le pantofole, metto le scarpe, scendo giù così come ero in casa, con la macchina di Eva ci abbiamo, perché dice dovrebbe essere all'ospedale di Cava dei Terreni. E mi ricordo che siamo passati… Poi era vicino al luogo dell'attentato. Sì, infatti passando il traffico era tutto bloccato, sirene, ambulanze, polizia e questa macchina che era una BMW nera, proprio nera, il colore della morte, ferma lì con tutti, ci passiamo accanto, con tutti i vetri crivellati dei colpi e in tutto quel marasmo, mi ricordo che il mio sguardo rimase colpito da quella scarpetta rosa, la cosa che mi colpì. Poi questa corsa all'ospedale, arriviamo lì e io chiedo di lei, fatemela vedere, perché io sono convinta che se mi vede si tranquillizza, ha bisogno di me, chiedevo ai medici, nessuno parlava. Vuoi vedere tuo marito? Dicevo, no voglio vedere mia figlia, no ma tuo marito ti vuole parlare. E così mi portarono in questa stanza, sala operatoria dove lui era di stesso. L'ho sedito anche lui, alla spalla destra, al cranio. Anche alla testa questo proiettile diciamo era... L'aveva sfiorato, sono ucciso ma non serito al punto tale da provocargli... E appunto lui era già un po' inebbettito dai farmaci che, sai questi farmaci per calmare il dolore, non lo so, per l'operazione, non ti so dire, l'unica cosa che mi disse, vai da Simonetta, mi disse. Ed io allora con la macchina della polizia mi caricarono lì e andai. Mi ricordo che passai davanti al campanile di Pompei, sai, per andare da Cava a Napoli, devi passare di là. Non mi uscì una preghiera, io che sono cristiana, più che è cattolica, cristiana, perché il cristianesimo per me è una religione di grande valenza, proprio spirituale. E vidi appunto questo campanile, avrei voluto pregare, non mi è uscita una invocazione. No, io già sapevo che c'era qualcosa di irrecuperabile. E' vero che una madre sente, non Angelo? Sì. Arriviamo a questo ospedale Cardarelli e lì mi mettono in una specie di spogliatoio dei medici, insieme a Eva, io e questa mia amica, arriva mio fratello che è medico, è chirurgo, entra e mi abbraccia, dice non ti preoccupare, stiamo chiamando, stiamo aspettando il neurochirurgo, già solo sentire il neurochirurgo. Io che non sapevo niente, dico la cosa veramente pericolosa, tragica, ma io sono una persona che non urla. Poi hai un dolore e anche una rabbia contenuta che la trasforma. Ma rabbia mai, rabbia mai, io non ho mai provato rabbia, non so, anche questo è un fatto strano. Dolore forte, ma non un dolore esplosivo. Certo, era tutto imploso. Imploso e quindi forte e introiettato che mi stava dentro, insieme alla certezza che non c'era niente da fare per Simonetta. E di fatti poi mio fratello non è più venuto perché non ha avuto il coraggio, mentre invece entrò mio cognato, il quale mi disse Angela non c'è niente da fare, con molta freddezza, lui molto perché aveva capito che forse era quello il modo giusto di approcciarmi. Non c'è niente da fare e dobbiamo riportarla a cava. Io sgomenta, ma proprio sgomenta, ma senza cacciare un gemito, senza cacciare. Sai, molte volte vedo queste mamme che quando hanno queste notizie proprio esplodono, urlano perché uno dovrebbe urlare. Io non riuscivo, quindi di nuovo come un bagaglio mi mettono sulla macchina dietro l'ambulanza. Io non ho avuto più il coraggio di vederla, non ho avuto mai, lo confesso, il coraggio di vederla dopo l'attentato. Quindi non ho voluto vederla, non ho voluto. Quindi mi mettono la bimba davanti, ma io non l'avevo vista. Poi solo dopo io entro nella macchina e cominciamo questo viaggio a ritroso. E arrivati dove c'è l'autogrill di nocera l'ambulanza si ferma, scende il medico e fa così con la testa un diniego. Voleva dire che Simonetta è morta lì. Per suo caso, però scorto dalla sua mamma, che non è una consolazione, però significa che non era sola Angela. E sono certa che per come sei affettuosa con tutti i ragazzi che hai aiutato, hai formato a scuola, ragazzi in incontri nelle carceri, ragazzi che hanno ammazzato, ragazzi come quelli che probabilmente hanno sparato anche a tua figlia. Può citarle. Può darsi, perché ora ti dico, quando poi questo benedetto signore, non mi ricordo come si chiama, Pignataro se non mi sbaglio, che poi si è confessato, re ho confesso di aver fatto parte di questo commando. Antonio Pignataro. L'ho visto poi nel processo, solo la prima volta sono andata, c'era anche nel 2011 c'era il fondatore di Libera, c'era Don Luigi, Don Luigi mi disse, Angela Antonio Pignataro vuole chiederti perdono. Io l'avevo visto lì in quella gabbia, l'ho guardato più di una volta e dico, ma come ha fatto questo a fare una cosa del genere? Lo vedevo come una persona così indifesa, banale, un po' cicciottella, stempiata, con la testa bassa, non mi guardava mai in faccia, teneva la testa bassa. Non posso dire che mi fece pietà, ma forse sì, perché dico, cosa avrà avuto questo 30 anni fa? Avrà avuto 18, 19 anni. Quindi un ragazzo che forse non è stato aiutato né dalla famiglia, né dalla scuola, né dalla società, per cui poi ha preso quella direzione sbagliata. Ecco perché io poi adesso mi rivolgo ai ragazzi, parlo con loro, non sono mai capace di punirli sicchette semplicite rifatte. Per me bisogna parlare con i ragazzi, parlare, stancarsi nel parlare, portarli col ragionamento, far capire le cose, toccarli, trasmettere l'energia buona, soprattutto quando li vedi tutti arrabbiati, perché semmai quella mano che ti tocca ti fa capire, ma guarda questa pensa a me, pensa a me. Non sono sole. Ecco, guardarli negli occhi, negli occhi bisogna guardarli. Di solito io questo dico anche nella mia opera così di preside, chiamiamola preside, un po' anomala. Lo sono ancora? Sì, nella scuola, si è stata per tanti anni nella formazione del nautico a Bagnoli, che veramente ho incontrato di recente, lo dico perché mi è capitato in un contesto completamente diverso di incontrare il professor Cappa e per puro caso ho detto conosco Angela Brogacina e lui manda lui un bacio, un abbraccio, la miglior dirigente scolastica, la miglior presidio possa aver avuto, una donna che non ha mai lasciato solo i suoi fanciulli, i suoi alunni, ma anche neanche nei docenti, ci ha supportato, presenti agli incontri, alle assemblee, veramente c'è 360-360 gradi di abbraccio dai tu. Quindi questo è una cosa importante, tu hai parlato di sguardo, io credo che Antonio Pignataro dal Gabbio non avrebbe mai potuto sostenere il tuo sguardo, perché sarebbe stato quello di Simonetta e quindi anche se lui si è reso reconfesso e quindi dalle sue rivelazioni, si è potuto anche arrivare a tutta una serie di svolgimenti processuali non facili, perché stiamo parlando di più di 30 anni di processo, dove veramente tra nuova famiglia, affiliati, NCO, Raffaele Cutolo e tutto il resto, insomma, veramente c'è stata la sofferenza nella sofferenza, il dramma, l'attesa, ed è quasi alla fine, sembra quasi che uno poi li deve anche ringraziare questi che riescono a mettere un punto, laddove una ragazzina che voleva soltanto continuare a essere la figlia della sua mamma e avere il suo vestito giallo e sui lunghi capelli biondi, alla fine perde la vita, perde la vita perché per puro caso, insomma, quel giorno il papà che per il lavoro era poco presente, e quindi tu capisci che, te lo dicono chiaramente, che Simonetta, il suo cuore ha terminato di battere proprio lì. e poi siamo ritornati a casa, lei è stata messa, l'hanno sistemata, vestita, io non ho partecipato a tutto questo, non era proprio possibile, non era proprio possibile, solo la mattina alle 7 arrivarono due sue amiche che dovevano fare la prima comunione, furono le prime ad arrivare, lei erano due ragazzine di 11 anni, vennero con il loro vestitino bianco, il giglio, e solo allora con queste due bambine io ho avuto il coraggio di entrare e di vedere quella creatura lì senza più capelli biondi. E poi ecco questo che volevo dire Anna, ci tengo a chiarire questo, quando succede una cosa del genere, in una famiglia, non c'è più pace, non c'è più pace, si muore un po' tutti. Sì, è inutile pensare di poter ricostruire, sì, si va avanti, si tenta perché lo devi fare per forza, se tu hai un minimo senso del dovere e appunto anche di affetto filiale per gli altri figli, devi farlo per forza, ce ne vuole tanta di forza, tu non puoi nemmeno immaginare, ma ti senti crollare tutto intorno, il padre non c'era più. Francesco è stato messo in una scuola alla Nunziatella, prima in un collegio al Cava dei Terreni, la Badia, perché c'era paura che gli potesse succedere ancora qualcosa. Diciamo che tu hai avuto anche tutta una serie di condizioni brutte, spesso avevi danni all'auto, diciamo che un po' la gente normale aveva porno di avvicinarsi a te e i tuoi figli perché pensava hanno fatto un attentato al marito e morta Simonetta possono fare anche altro e perché avvicinarci a una persona che in qualche modo potrebbe portare alla morte di noi o dei nostri figli. C'era il modo di dover tutelare Francesco e poi Sereno e Stefano che sono nati a distanza di 1 e 3 anni dalla morte di Simonetta, quindi veramente una vita non facile e poi sicuramente tutta una serie di cose che hanno poi inaridito anche il rapporto proprio familiare forse. Poi appunto la separazione, i problemi, lasciare Cava dei Terreni, ritornare a Napoli a casa di mio padre in una cameretta dove vivevamo io, Serena e Stefano e avevamo una bella casa, non l'avevamo più e lì poi ricostruire, ricominciare da zero. Serena con la scuola, aveva lasciato tutte le sue amiche, Stefano era il più piccolo, forse quello che ha risentito meno, ha risentito meno perché diciamo aveva 4 anni, quindi i ricordi spiacevoli. Invece quella che Francesco, il mio primo, ho il dovere di dire, ha avuto veramente tante difficoltà perché si sentiva in un certo senso responsabile perché il suo no aveva segnato la morte della sorella e ha vissuto per tanti anni con cui, pensate che significa per un ragazzino di 12 anni sentirsi responsabile indirettamente della morte della sorella. A tutto questo non si pensa e quindi anche Francesco si è chiuso, è diventato molto introverso, poi è entrato nell'Annunziatella, poi ha fatto il concorso nella Guardia di Finanza e lì nella Guardia di Finanza ha cominciato a fare le cose più pericolose e allora è andato, una volta diventato tenente, non lo so capitano, tenente credo, è andato in Afghanistan, ha fatto 10 mesi in Afghanistan, poi è andato in Kosovo, quindi le cose più pericolose, è una ricerca di mettersi in discussione lui stesso la sua vita. Come se dovesse espiare, mettendo a rischio la sua vita e potete immaginare che cos'era per me vivere poi a Napoli con questo figlio che nel mondo si trovava nelle zone più pericolose. Che abbassava accendere il telegiornale quando non riuscivi a sentirlo, immagino la pena nella pena. Infatti una volta mi ricordo che aspettavo l'autobus e sul display dell'autobus leggo, attentato in Afghanistan, non so, allora io terrorizzata però avevamo un ponte radio con cui si comunicava direttamente e quindi mi tranquillizzarono, mi dicevano no no non si preoccupi, non si preoccupi, tutto a posto, ma si vive di palpit. E quindi questo è stato. E poi c'è Serena, Serena che... Io dico Serena anche se lei si chiama Serena Simonetta, nato un anno dopo Simonetta, la morte di Simonetta, questo secondo nome è voluto dal papà. Io non avrei voluto chiamarla Simonetta, devo essere sincera. Certo, devi essere, lo sai in tutto quindi. Non posso nasconderlo, non avrei mai voluto che si chiamasse così, perché per me Simonetta era lei e basta, non significa niente dare un nome che poi dopo gli avrebbe pesato, come poi è successo, perché è un nome particolare, un nome insomma c'era tutto un alone di sacralità e di mistero intorno a questa creatura che lei non aveva mai conosciuto. Quindi anche la sua fantasia, soprattutto nell'adolescenza, era partita alla ricerca di questa immagine di sorella che lei non aveva mai conosciuto e che secondo lei, la cui morte secondo lei aveva segnato la sua nascita. Quindi qualcosa diverso rispetto a quello che era successo a Francesco. Pensate un po', ma sono cose veramente tremende, allucinanti. Questo per far capire a che, qua lo devo dire per forza anche proprio, questo va proprio diretto ai giovani che decidono di andare da quell'altra spuma, no? Da quello del facile guadagno, io dico quello dell'omertà, quello della vita facile, ma che poi è una vita di camorrisse. Alla fine io dico sempre che l'odore è il migliore che puoi metterti a tutto il profumo, il più costoso, non ti cancellerà mai quell'odore di cadavere che loro portano, perché loro portano la morte proprio altrui, quella che provocano oppure quella che riceveranno o nelle carceri o in qualche sparatorio per vendetta trasversali, perché periranno come sorci sottoterra, nonostante il danaro che... Questo significa quando un giovane uccide una bambina o un altro giovane e non uccide soltanto che la persona Angela sta cercando di farvelo capire in tutti i modi, uccide una famiglia intera, porta con sé una parte del cuore di tutti, di chi c'è stato, di chi era prima, di chi è venuto dopo, perché è un vuoto che non si può mai colmare, è un affetto che viene tolto, sradicato, proprio estirpato dalla radice per quanto ti resteranno dentro tutti i semi, perché sono germogli di vita, però... Hai detto bene così, perché è proprio quello a cui io, è proprio quello che mi dà la forza di parlare anche adesso, è proprio questo, pensare agli altri, pensare ai ragazzi, ai giovani, vi prego ragazzi non fatevi né deviare, né turbare, né allettare da queste che sono cose che poi vi tormenteranno per sempre, evitate, pensate al dolore di una mamma, al dolore di una famiglia, è questo a cui dovete pensare. Io voglio dire che alla fine è una magrissima consolazione, però da poco maggio si è concluso il processo, insomma tutti e tre gli appelli, ci sono dei colpevoli, mandanti e quant'altro c'è ancora da definire una serie di cose giuridiche, però io non sono qui per raccontare questo, queste e tutte le supposizioni, le azioni, i fatti veri o quant'altro giuridici io li lascio, mi permetterei alle aule di tribunale, io non sono un avvocato, io sto parlando con Angela Provaccini, la mamma di Simonetta, mi basta che tu mi hai mostrato un album bellissimo di foto, io ne allegro qualcuna a questa intervista, ne farò un album anche su Facebook, nel social network che serve se è utilizzato nel giusto modo, serve ai giovani, serve a fare la giusta pubblicità, serve a far rincontrare chi è lontano, io ho ritrovato delle mie amiche di scuola che vivono in America, io ho ritrovato degli ex allievi, che è una cosa bellissima per te che fai formazione e l'hai fatta, la continui a fare, del 90, di Cava dei Tirreni che adesso mi hanno invitato il 16 dicembre a una cena, mi verranno a prendere, ragazzi straordinari, veramente straordinari, a cui ho lasciato forse un messaggio positivo, io penso che il karma di Simonetta era quello di morire bambina, di restare bambina, e il mio è quello di continuare a vivere per ricordare lei e per aiutare i giovani che hanno bisogno di aiuto, questa è la mia idea, ne sono convinta. Io nella cosa brutta dico sì, ne sono certa anch'io, voglio dire che a Simonetta sono state intitolate tantissime strade, piazze, scuole, biblioteche, più biblioteche, una proprio nella scuola dove è insegnato Angela è stata preside, Angela Procaccini che è nato di Bagnoli, è stato intitolato lo stadio di Cava dei Tirreni, ma posso dire che c'è una piazza nel comune di Cautano, nel Beneventano, centri per le donne e per i bambini, veramente c'è Simonetta vive oggi più che mai e io dico sempre profuma di vita, profuma di vita, come quella fotografia bellissima, ha il suo vestito in azzurro, capelli lunghi e c'ha un coso per prendere le farfalle, il retino per prendere le farfalle, è bellissima, quella è una delle prime foto che mi ha mostrato Serena, io sono molto amica di Serena e che saluto, oggi lei non è qui, però voi la conoscete perché ho l'intervistato altre volte, è una donna coraggiosa, molto, è una donna coraggiosa veramente, è stata lei la prima a riportare in vita alla sorella, si può dire, perché io te l'ho detto prima per paura di parlare di lei, per far riuscire questo magma di dolore che ho dentro, cercavo di evitare di mettere in piazza il mio dolore, anche perché dovevo continuare a vivere, a lavorare per mantenere i figli, per portare avanti la famiglia, è rimasta sola e quindi cercavo di metterla così, di metterla nel mio cantuccio, lei invece in maniera proprio tenace, tenace proprio. Una donna così gracile, di una magrezza poi così poco appariscente, Serena, è una che quasi chiede scusa se sento, se sento, quando alla fine veramente noi dovremmo ringraziare lei per tutte le volte che è presente, che è affettuosa, lei è riuscita veramente a far conoscere Simonetta a tutti, è riuscita con la sua tenacia, lei che all'apparenza, io dico quasi una spiga di grano, Serena, è portata al vento, però sempre retta, sempre stabile, mai si è fatta strappare presenti all'udienza con Luigi Ciotti, da sola, una forza ha partecipato alle marce di Libera, 21 marzo ci siamo fatti di marce insieme a portare bandiere e a ricordare tutti i nomi delle vittime innocenti di criminalità, perché poi quella è la cosa più bella, scegliere di essere liberi a modo nostro e ringraziare sicuramente Luigi Ciotti che per ricordare appunto gli uomini di scorta di Giovanni Falcone, perché veniva sempre ricordato Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, diceva ma ci sono nomi e hanno un nome e un cognome, e Serena più che mai, perché ovunque va Serena, Serena dice io sono la sorella e Simonetta Lamberti, io infatti sono una delle poche, molti la chiamano Serena Simonetta, invece io credo che Simonetta è Simonetta, e Serena è Serena, quindi sono le due figlie le due figlie di Angela, ognuna ha il proprio dolore e lo porta, perché per me Simonetta continua a esistere in un modo diverso, ma c'è. Io la sento, guarda veramente ti assicuro una presenza che avverto, anzi io dico che molte volte è lei che mi dà la forza, ma come farei a fare quello che ho fatto? A portare avanti tante battaglie, a fare concorsi, a scrivere libri, a presentare libri, a parlare, parlare, parlare con i miei ragazzi senza mai stancarmi, c'è lei, c'è lei io ne sono convinta, quindi c'è qualcosa che rimane, un'energia, un'energia che in questo caso è positiva. Assolutamente, e io credo che anche quell'energia che dal primo momento in cui sei varcato la soglia di un carcere minorile, con il dramma di essere la mamma di Simonetta uccisa, perché era lì. Quella è stata un'esperienza fortissima, io parecchie volte sono stata anisida, mi ricordo che Maria Franco che mi aveva invitata. Salutiamo, donna splendida ti ha fatto un'altra. Come anche Gianluca Guida? Assolutamente, io credo uno dei migliori direttori che si può essere. Eccellenti, eccellenti, tutti e due, due persone veramente, noi le dobbiamo ringraziare, perché avere delle persone così in questa nostra società veramente significa essere fortunati. Certo. Per i nostri giovani, per i giovani che cadono in certe trappole e comunque quando lei mi portò e mi disse Angela perché non vieni lì? Io scrivevo poesie in quel periodo e portai questo libricino, la mia seconda opera diciamo. E mi ricordo che Maria disse quando io la accompagnai in questa stanza dove tutti i ragazzi erano seduti. Aveva paura per te. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Come farò adesso? Non ti aveva mai sentito papà Maria. Allora i ragazzi tutti, c'erano naturalmente i sorveglianti, non so come si chiamano, ma comunque sono ragazzi particolari, non è che siano dei ragazzi di un college, quindi c'era quell'atmosfera un po' particolare. Allora lei preoccupatissima. Ebbe timore per te. Sì, aveva paura per me. Io cominciai a parlare, io poi non alzo mai la voce, mai, mai, mai. Infatti da quando ti conosco questo è il tuo timbro unico tono. Sempre, sempre così i ragazzi dopo un po' abbassano la loro voce. E allora dopo un primo cinque minuti mi disse lei, i ragazzi si tacitarono, dopo dieci minuti ascoltavano e scassati. Alla fine di quegli incontri abbiamo prodotto delle poesie stupende, loro le hanno prodotte, perché io sono convinta che quando tu parli a dei ragazzi particolari, a tutti i ragazzi, ma dei ragazzi particolari che arrivano a certe situazioni perché hanno un disagio dentro di loro, i sentimenti colpiscono. Allora quando tu parli della lontananza degli affetti, dell'amore, della nostalgia della cassa, del dolore, della solitudine, sono sentimenti universali. Assolutamente. Che possono sentire io, ma li sentono anche loro, forse tanto più. E questo è stato il segreto dei nostri incontri di Nisida, parlare di sentimenti, suscitare emozioni, arrivare al cuore di questi ragazzi che hanno, hanno tanti problemi, ma tanti sentimenti. Bisogna solo portarli fuori, quelli buoni. Penso che le persone come te, come Gianluca, come Maria e tanti altri che a volte vengono e sono partecipi, sono quelli che servono, servono proprio a fare, io dico la ripulitura della gabbia che chiude i sentimenti nel cuore. C'è tanto fango, però se si vanno poi a scardinare una serie di cose, io credo che il peggiore ha, come giustamente dici tu hai sentimenti, quindi c'è quella forza interna e poi la volontà di ripulirsi. Io capisco perché Maria questa cosa aveva scritto nella operazione di Lumi Capelli, dove lei dice, io il libro tu me l'hai regalato, io mi ricordo, tanti anni fa ci siamo incontrati, lo presentammo, c'era anche il dottor Giovanni, Giovanni Melico Lepore, tuo amico di infanzia. Sì. E fu una delle prime volte che io ti ascoltavano e pensai, una persona così fine, così leggiadra, così con quest'aura bionda, un po' come Simonetta, ha una forza e una capacità di zittire, senza usare la voce. No, mai, mai. E poi hai questo sguardo diretto, vedi, l'hai fatto con i detenuti in gabbia, l'hai fatto con i ragazzi a rischio, lo fai con me, insomma, quindi sostenere lo sguardo, avere lo sguardo che ti scava nell'anima, non è da tutti, perché si ha questa tendenza abbastanza, infatti una volta anche io nel mio piccolo dico ragazzi guardate sempre negli occhi, perché capirete tante cose, andrete oltre anche un'apparenza. Gli occhi parlano. Il specchio dell'anima sul serio, ma ti fanno vedere quell'anima, quella pura, quella che magari a volte vuoi nascondere. Quella vera, che tu semmai non vuoi far trapelare, invece viene fuori attraverso gli sguardi, infatti un altro mio libro si intitola proprio sguardi. Infatti, è anche molto bello. Un altro episodio, ricordo di Nisida, che mi resterà per sempre impresso, è lo scoprimento delle maioliche, delle ceramiche dell'aquilune, non so se tu l'hai mai visto. No, però me ne hanno parlato. Su una parete esterna di una delle case di Nisida, c'è un grosso aquilune di colori diversi, ogni mattonella quadrata, secondo gli anni, ha dei colori diversi. Per esempio la mattonella dell'82, che era quella appunto che riguardava anche Simonetta, tutti gli uccisi dell'82, col loro nome, erano un determinato colore. E mi ricordo che quando è stata scoperta, scoperto questo aquilune spavillante al sole, perché le maioliche brillano, luce, quindi riflettevano questa luce, e uno dei ragazzi mi disse, hai visto maestra, loro dicono maestra, hai visto? Luce e Simonetta. E mi fece vedere lui, io mi commossi terribilmente, lui mi abbracciò, era un assassino, mi abbracciò con tanto affetto e con tanta forza. Quell'abbraccio io non lo dimenticherò mai più, mai più. Certo era un ragazzo che aveva ucciso. Anche uno che uccide può ritrovarsi. Ma certo, certo, non bisogna mai disperare, mai. Perché a volte loro vengono ricattati, l'hai già fatto, quindi non ti puoi redimere, oramai sei condannato, sei segnato, e giocano su questo. Poi i giovani magari che non hanno un grosso grado di cultura, ovviamente perché cercano sempre di eliminare ogni tipo di informazione scolastica a questi giovani, perché gli devono togliere la forza la possibilità di pensare, di scegliere, di essere liberi. Questo è il primo deterrente, quindi io lo dico sempre ai genitori, anche se avete difficoltà economiche, mandate i vostri figli a scuola, almeno fino alla scuola è l'obbligo, poi magari lavoreranno, noi conosco un sacco di ragazzi che lavoricchiano e vanno a fare la scuola serale, pur di arrivare a un diploma, perché dicevano il secco, oppure a me mi chiamavano maestra libera, mi sento molto libera, dicevano sempre perché voglio andare a scuola, perché voglio, poter fare qualcosa, almeno un pezzettino di carta, io me lo devo prendere, allora tu vedi quanta volontà c'è, quanta voglia, e io sono certa che nel mio immaginario, guardando le foto di tua figlia, foto che mi ha mostrato anche Serena, che a volte mi ha inviato privatamente e che restano a me private, perché soltanto quelle che tu vorrai mostrare, poi con Serena c'è un rapporto di amicizia, quindi quando ho trovato una foto di Serena, di Simonetta e me la sempre raccontate come se ci fosse stato anche lei in quel momento in cui veniva usata la macchina fotografica, quindi è bellissima questa cosa, è dolorosa insieme, però è bello ecco che ci sia questa presenza di Simonetta in tutte le cose che fai, da manifestazioni al giorno della memoria del 21 marzo, a state intitolate, state e quant'altro, ma soprattutto il lavoro che svolgi, c'è un disegno bellissimo che tu conservi tra i tanti, però abbiamo scelto questo che è pieno di vita, è pieno di vita, io dopo l'ho fotografica, lo mostro giusto velocemente, è un albero di ciliegie, quindi c'è il nutrimento, il frutto e poi la cosa più bella, se voi lo streverete anche dalla foto, due rami sono due braccia, quindi pronti, aperti, come un abbraccio, in un abbraccio e poi l'essere radicati a terra, quindi il senso di appartenenza, la famiglia e questa è una cosa che mi ha colpito moltissimo e io credo che Simonetta continui a fare tutto questo grazie a te e a Serena, ti volevo dire ancora una cosa, c'è una serie di eventi che tu porti avanti nella maniera più giusta sempre per i giovani e a differenza di altri hai sempre questa reticenza, non metti mai tua fitness, lo fai quando parli di lei, poi altre volte sembra quasi come se insomma sai, volessi necessariamente parlare, però devo dirlo che Simonetta è riuscita a fare qualcosa tramite Serena, che è questa rondine che è entrata nella tua vita e che è Sissi, la nipote, la piccola ormai ha 13 anni, una ventata, la prima volta che ho visto Sissi aveva penso 7 anni, aveva questi capelli lunghi, mi ha impressionato perché in un gioco eravamo a portici e Serena era sulle scale, Sissi correva e in un gioco di luci, questo pomeriggio quasi estivo, a me mi è farsi vedere Simonetta, la frangia, il capello biondo, adesso è cresciuta era magra come, c'è nel paradosso, Serena e Bruna nasce Sissi che è praticamente la cosa più vicina a sua zia Simonetta e a sua nonna. Eh sì, è vero, è vero. Io voglio dire un'ultima cosa per quanto riguarda soprattutto i ragazzi, penso che possa essere, possa tornare utile, in questo caso lo dico agli educatori, ai formatori, ai docenti, ai genitori. Io taglierò tutti i docenti, i miei amici in questa intervista e so che la guarderanno e l'ascolteranno con attenzione e la porteranno anche a scuola. Io penso che bisogna perdonare, capisco che certe volte i ragazzi commettono qualcosa che è anche grave, ma grazie, commettiamo anche noi adulti delle cose che sono gravi, quindi loro che sono in fieri, logicamente può capitare, non hanno ancora l'equilibrio, non hanno ancora la saggezza e quante cose facciamo noi adulti che non andrebbero fatte. Allora ecco, l'arma migliore è il perdono, parlando però, sempre parlando, perché perdonare e far capire di aver perdonato per il bene della persona può essere molto importante. Punire, castigare, dare le giornate di sospensione, non può sortire niente, al momento sì, ma domani alla prima occasione il ragazzo che si è sentito tradito, colpito farà peggio di prima. Allora far capire, perdonare ma far capire il perché, perché si fa per il suo bene e penso che questo possa essere più utile. D'altronde se non mi sbaglio, Lincoln diceva, vale più un atto di misericordia che un atto di giustizia. Io la trovo stupenda questa frase, perché ti fa capire tutto. Se tu usi la misericordia, siamo appunto nell'anno della misericordia, la misericordia nel senso di comprensione, di apertura, di accoglienza, di perdono, ecco se tu usi questo atto, puoi recuperare. Se invece ti metti contro un ragazzo, ne puoi fare poi un delinquente, un disagiato, un deviato, quindi fare molta attenzione, però deve capire che tu lo fai per il suo bene. Certo. Ecco, questa è una cosa che ci tenevo a dire. Noi iniziamo alla conclusione. Io voglio chiedere a Angela, io non sono madre, a volte dico sono mamma di tanti ragazzi che ho incontrato e che spero di incontrare ancora nel mio cammino, insomma, di poter fare qualcosa per loro. Io voglio immaginare, non l'abbiamo detto Angela, oggi è il compleanno di Simonetta. Noi ci siamo sentite la settimana scorsa, dopo veramente, erano mai anni che non c'era questa forza, non c'era questa forza, quando sembrava che volessimo fare, ho avuto io un dolore, insomma, per la mia mamma. C'è stato un periodo difficile. E poi ci siamo risentite, ci siamo risentite con grande spontaneità. Dai Angela, raccontiamo Simonetta, ti ho detto. Sì. E tu hai detto sì. La prima volta hai detto sì, facciamolo. L'hai detto convinta, l'hai detto desiderosa di ricordare ancora una volta Simonetta e abbiamo preso le agende. Dall'altro avevo il telefono, tu con la tua, io con la mia. Ho detto, ma che vogliamo fare? Scegliamo lunedì, perché lunedì è un bel giorno, dai. Poi, ma facciamo, ma il 27, il 28, Angela, vogliamo incontrarci il 21? È un bel giorno, è legato alla primavera, mi piace il 21. E Angela mi fa, ah nel 21? Sai che il 21 è il compleanno di Simonetta? Io sono restata un attimo con questa fornetta, ho detto, mio Dio, come mi è venuto di dire il 21? Io non non lo, cioè, sapevo che Simonetta era nata nel 1970, novembre, ma vi giuro che non ricordavo che era nata il 21. E quindi sono rimasta un attimo così e l'ho colta veramente come un segno. Un segno, è vero. Che aveva piaciuto anche Simonetta a farsi ricordare, raccontare da noi, quindi era giusto il 21. Che poi, per me, il 21 è sempre un, come devo dire, una giornata particolare. Io comincio una settimana prima a sentire che c'è qualcosa, sai, quelle cose proprio intime che tu non riesci a spiegarti, un po' di insonnia, un po' di mal di testa, di extrasistoli, perché purtroppo ti rimangono queste cose. E poi focalizzo e dico, ah, si avvicina la giornata. E di fatti poi il 21, questo giorno, che per me è… Oggi te lo so venuto a riempire io, dai. Sì, oggi l'hai riempito tu. È vita, è vita. Meglio oggi che il 29 maggio, perché è il giorno della vita, è naturalmente il foriero di vita. E speriamo che sia stato anche questo nostro incontro. Assolutamente. Immaginiamo Simonetta in un viaggio. Simonetta in un quaderno scritto in un compito a scuola. Buongiorno, sono Simonetta e sono una nuvola. Ma è una farfalla, è un fiore, è il cuore, è l'amore, è un fiume che scorga, è una stella. Me la immagino proprio come dono della natura, a parte che come dono di figlia, insomma, a te che sei la madre. Voglio chiederti una cosa che puoi pensare che ho. Immaginiamo che Simonetta si è a fare un viaggio. Francesco all'Annunziatella e poi la carriera militare. Dedichiamole un saluto, un saluto particolare. Oggi è il suo compleanno, magari lei altrove. Ma io... Anche se io so che tu tutti i giorni le devi dire. Anche se una settimana prima del compleanno, dell'accadimento, del giorno in cui... Mi sembrerà strano, ma io le parlo. Ma no, almeno mi sembra. Io insegno anche un po'. Certe volte dico, ma forse non dovrei. Io certe volte, molto spesso sono sola e mi rivolgo a lei come se fosse vicino a me. Comunque. Invece io voglio ricordare una cosa bellissima. Di tutto quello che vuoi aggro, quello che senti proprio. Bellissima di un gruppo... Dopo la sua morte io ho avuto tante testimonianze, ma una di quelle che ricordo con maggiore commozione è quella di un'equip di operai italiani che lavoravano in Africa per costruire delle strade. Non so come avevano saputo, mi sembra dalla rivista Oggi che aveva riportato le fotografie, la vicenda e tutto il resto. L'ingegnere, i vari geometri e tutti gli operai mi scrissero una lettera stupenda in cui mi dicevano il cielo dell'Africa è pieno di stelle. Noi che siamo lontani dalle nostre case, dalle nostre famiglie, abbiamo scelto una stella, la più luminosa e l'abbiamo chiamata Simonetta. E a lei ci rivolgiamo nelle serate diciamo di lontananza dai nostri affetti. Una lettera così spontanea, così immediata, ma così proprio coinvolgente. Eppure è bella Angela, pensare delle persone, degli italiani che vivono a solo lavoro lì e che hanno scelto come... Una stella che era la loro guida, la loro, come devo dire, la loro luce, perché mia figlia è una luce. Allora non dico null'altro con questa frase meravigliosa, dove Angela giustamente lei che l'ha generata, lei che l'ha coccolata, accudita e tutto, come in questa foto della piccolissima, perché Angela mi ha utilizzato la foto della fare dopo. Voglio anch'io salutare Simonetta, farle... Io dico anche qua si sente un'energia particolare, si sente quella di un bambino, di una bambina che allegra, che sorridente, che... Anche se a volte un po' silenziosa. Io non l'ho conosciuta, me la sono immaginata così. Sì, riflessiva, molto riflessiva. La luce di Angela Procaccini. Oggi noi spegniamo con Simonetta le luci delle candeline, però questa è una luce immensa che è quella della sua presenza, della sua anima, di quello che è grazie a sua madre Angela Procaccini e a sua sorella Serena Lamberti, Francesco, Stefano che, pur non avendo la conosciuta, Stefano e Serena e Francesco invece che ne ha goduto, ne hanno risa insieme, dormito e giocato, la ricordano sempre. Questo è il modo più giusto di fare in memoria e quindi grazie infinitamente ad Angela Procaccini. Grazie a te, Anna, della tua sensibilità. Non è facile trovare una giornalista che parla col cuore e al cuore e io te ne sono grata. Grazie. Grazie a tutti.